Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza è stato sfrattato dai locali privati che occupava in affitto in via dell'industria Praia Mare. Nella giornata di ieri un ufficiale giudiziario si è recato sul posto per rendere esecutivo l'ordine del giudice. Il personale medico e i dipendenti hanno dovuto lasciare l'edificio. Gli arredi dei laboratori e degli ambulatori sono stati caricati su un camione temporaneamente sistemati in un magazzino presso il centro di assistenza primaria territoriale di Praia Mare, l'ex ospedale. Il servizio, a quanto riferiscono alcune fonti sanitarie, va avanti per evitare il reato di interruzione del pubblico servizio ma tra gravi disagi per il personale e per l'utenza. In qualche modo sono garantiti i controlli ma il personale deve arrangiarsi con soluzioni di fortuna anche solo per stilare un verbale. Le cose andranno avanti in questo modo fino a che l'azienda sanitaria non individuerà una nuova sistemazione. C'è, riferiscono le medesime fonti, una manifestazione di interesse dell'ASP per rintracciare una nuova sede. Al momento però non si trovano soluzione che corrisponda alle necessità dell'azienda sia in termini di spazio e soprattutto di costi. Alla base dello sfratto non ci sarebbe la morosità dell'ente quanto la ferma volontà del proprietario a non rinnovare il contratto. Per farlo circa un anno fa il privato si è rivolto ad un giudice che gli ha quindi dato ragione intimando nelle ultime ore all'azienda sanitaria di sloggiare. In merito va ricordato che negli stessi locali trovavano dimora gli uffici dell'ex distretto sanitario Praia Mare Scalea, oggi accorpato con altri ambiti territoriali nel macro distretto ASP del Tirreno con sede centrale a Paola. Nel 2012 l'azienda aveva deciso il loro accorpamento al CAPT di Praia Mare nell'ambito del riordino generale della sanità in ossequio ai dettami del piano di rientro dal deficit sanitario della regione Calabria. A quanto si è appreso c'era stata l'intenzione dell'ASP di spostare anche il servizio veterinario nell'ex ospedale, una proposta però che avrebbe trovato un netto rifiuto dalla dirigenza del distretto sanitario del Tirreno per l'inconciliabilità delle due attività. Grazie. 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 Grazie.